Siamo a scuola barman di Genova, aiutiamo il nostro Alessandro a superare il Guinness. Alessandro è un nostro caro allievo e collaboratore da anni e come ci ha chiamato siamo accorsi tutti qua, è ovvio a dargli una mano a creare il mojito più grosso del mondo. Può chiamarci e noi potremmo non intervenire a una cosa del genere secondo te? No, è impossibile, è impossibile che Roger non partecipi a una cosa del genere che ho organizzato io. E che cavolo! Però subito mi è venuto dietro e mi ha dato una mano, mi ha dato veramente una grossa mano. Senza caffè mojito a lavagna non sarebbe mojito. Infatti sono l'ultima arrivata e mi occhiano già tutti. No, ma infatti la concorrenza ha iniziato. Tre ore mojito. Tre ore mojito. Tutta Italia ci sta vedendo, ce lo faremo. Tutti insieme, grande mojito caffè, grande ariken team. A dopo, a tutti. Ok. Riusciranno i nostri amici a battere il record del mondo del mojito più grande. Speriamo. Ti stavo anche chiedendo, infatti. Cascorriano, devono farlo. Sì, devono farlo. Questo è sempre il mio punto di riferimento stasera, perché Massimo ormai l'ho perso. Io guarda, ci sono altri chiamali, mi giocano sul palco. Eh, ma lo so. Mi sto becciando la contessa. Te fai anni in giro, mojito. Vieni un po'. Noi siamo quelli del Guinness, che anche speriamo di vincere. Lui invece è un mostro sulla focaccia al formaggio, direi che è il numero uno. Come contribuisce l'elemento? Grazie a chi? Grazie a colui che stabilirà il Guinness. Ho trasportato il bicchiere. Farò parte. Il mio nome dovrebbe... Anche il suo nome ci sarà. Comparire nel discorso di... E cosa fai nella vita? Io per il ferro, Massimo. Nella vita faccio focaccia. E' una vita che nella vita faccio focaccia. Focaccia di? Focaccia di ricca. No, focaccia ormai... Se la faccio a ricca è focaccia di ricco, ma se la faccio fuori di ricco è focaccia di fuori di ricco. Però io sono di ricco. E sono un po' fuori di ricco. I nostri amici riusciranno a battere il record? Ce la faranno, ce la faranno. E gli aiuteremo. Lo sono addetto al taglio della focaccia. Con quella maglia lì devi dire qualcosa. Importante. Assolutamente. Anche se partiamo svantaggiati, sapremo recuperati. Un saluto. Ciao a tutti. Grazie. Non vediamo l'ora di berlo. Non siamo sicuri. Lo bevi tutto te? Non sarebbe male. E che ho paura che poi non rimango in piedi. Vabbè, ce lo dividiamo. Vabbè, dai, ok. Riusciranno i nostri amici a battere il record del mondo? Sicuramente. La fagna è sempre vincente. Riusciranno i nostri amici a battere il record del mondo? Ce la fanno, ce la fanno. Assolutamente. Sì, 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 sì. Decisamente sì. Vedetevi due capelli. Dai. Mi scusi. Ciao, bellissimo. Riusciranno i nostri amici a battere il record del mondo? No, non è mojito, eh? Sì, senza altro. No, no. Il mojito è più grande del mondo. Mojito. Sficciacciato. Sì, è rimasta a te. Vuole il casino, ragazzi. Vuole il casino. Fate il casino. Fate il casino. È un barco di merda.